Google Stadia, per me, è una cagata pazzesca! Dai, bando alle ciance, parliamo seriamente. Non è così tremenda come sembra, però in fin dei conti, cos'è Google Stadia? Niente di rivoluzionario, non è altro che una delle ennesime console, non console, da 130 euro perché si è obbligata a comprare della roba per poterla usare. Anche perché non tutti hanno il Chromecast Ultra, non tutti hanno l'Android TV compatibile e non tutti hanno un Pixel come cellulare. Questo fatto del poter giocare ovunque e basta avere Chrome va a puttane. Quindi dobbiamo comprare una console a 130 euro, ok. È conveniente in confronto alle contrapartie del console. Ma lo streaming? Lo streaming è gratuito, ma devi acquistare il gioco, quindi non differisce dagli altri piattaforme di streaming come Play o GeForce Now. È identico a GeForce Now. Forse la qualità è superiore tecnicamente, ma concettualmente non ci sta dando niente di innovativo di nuovo Google. Poi c'è un abbonamento a 990, che sarebbe una specie di PlayStation Plus, Xbox Live Gold, Nintendo Online, chi più ha più ne metta. Ti dà anche un gioco al mese, gratuitamente. Al lancio ti danno Destiny 2. Nemmeno questa grande cosa. Sì, è vero che esce il nuovo DLC, ti risparmi 50 euro. Però, boh, vale la pena. Cioè, acquistare questa nuova non console da 130 euro per poi dover riacquistare altri titoli per giocare. Perché dovrei fare una cosa del genere? A questo punto rimango con Origin Access Premiere o con Game Pass, che mi dà una miriade di giochi con un abbonamento veramente irrisorio, mensile. Alla fine non differisce da quello che sta sul mercato. Quindi, per me, Google ha fallito. Se io ero già pronto con la carta di credito, appena hanno fatto la conferenza ieri, l'ho rimessa bellamente in tasca, la mia carta di credito. Eppure, ci speravo così tanto, ma mi ha deluso questa conferenza. Perché potrebbe essere una delle ennesime piattaforme, come Launcher. Alla fine io gioco sia su Epic Launcher, su GOG. Ma è un'altra piattaforma. È un'altra console che se aggiunge e basta. Non dice niente di nuovo. Questo è il vero problema. Un vero peccato per Google. Che pure è andato in modo aggressivo. Anche perché Baldur's Gate 3, io lo aspetto come la madonna, però sarà multipiattaforma comunque. Quindi non mi cambia niente se lo compro su GOG o lo compro su Steam in futuro. lo potrò sempre giocare da qualche altra parte. Non sono obbligato a farmi stadia per giocare Baldur's Gate 3. Veramente, raga, non ha senso quello che ha fatto Google. Ed è un vero peccato, perché io da gamer trentenne ci credevo. Grazie. 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 Grazie.